Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video oggi vi porto sul canale un video haul spero che vi piaccia, se sarà così come sempre lasciate un like, iscrivetevi al canale e se vi va andate a me seguite sui miei social che trovate sempre linkati nelle info box io direi di cominciare subito con il video e sono un sacco un sacco felice ho fatto appunto questo ordine su Ocean's Apart che mi ha chiesto di collaborare e quindi sono qua per condividere con voi ciò che mi hanno inviato gentilmente, sono stati stra carini allora, io già volevo ordinare su questo sito in realtà un po' di tempo fa poi vabbè avevo lasciato stare, avevo lasciato in sospeso e quindi sono stata troppo felice quando mi hanno chiesto di collaborare e niente, sapete che io in realtà porto solo collaborazioni in cui credo veramente sul mio canale non sono tenuta a dirvi che è la mia marca preferita se non lo è quindi sappiate solo questo, voglio essere il più sincera possibile e niente, insomma direi di partire subito nel mostrarvi tutti quanti i prodotti che mi hanno inviato ovviamente vi lascerò anche le clip di tutto quanto magari così lo vedete meglio allora, per prima cosa mi è arrivato l'ordine in una scatola stra carina con tipo tutte queste scrittine e niente, vi ho fatto il video unboxing appunto vi ho registrato il video mentre aprivo la scatola e dentro c'erano due set c'erano l'Olay set e l'Ocean set deluxe tra l'altro scusate per la voce però sono un po' raffreddata e quindi è così e questo qua è l'Ocean set deluxe e quindi di questo color blu stupendo ho già deciso di indossarlo perché è comodissimo, ve lo giuro allora li ho provati prima quando mi è arrivato il pacco e ho detto perché non tenerli per il video come potete vedere ha i buchetti per i pollici che è una cosa stra carina è fatta super super croppo per chi finisce qua e è super traspirante infatti qua di lato ha la retina inoltre a essere traspirante il materiale è molto molto morbido ma allo stesso tempo sembra molto resistente fascia veramente veramente bene il corpo e inoltre essendo molto sottile permette anche di asciugarsi molto in fretta quindi di non trattenere magari il sudore che può dar fastidio per esempio in palestra o così e quindi sì insomma vi faccio meglio vedere da vicino il tessuto quindi guardate qua è molto molto elasticizzato fatto super super bene e sotto ho messo il reggiseno ovviamente perché mi hanno inviato sia la maglia che il reggiseno che i pantaloni e i pantaloni ve li faccio meglio vedere sono fatti così mi alzo i piedi sul letto così e sono stra stra belli ho comprato tutto in una taglia extra small sono molto molto elasticizzati quindi non credo abbiate problemi per quanto riguarda le taglie e credo che ve lo dico sincera diventeranno dei miei completi preferiti ma non sono la moglie per andare in palestra a fare sport ma proprio per stare in casa i leggis sono qualcosa di morbidissimo e di lato hanno tutto un motivetto carino dopo faccio le clip li inserisco e niente poi tra l'altro la colorazione stupenda poi con il biondo risalta veramente tanto secondo me faccio vedere velocemente la foto del sito qua di lato come vedete indossa proprio come sul sito fantastico e sì insomma super soddisfatta ecco fatemi sapere cosa ne pensate anche il colore credo sia veramente stupendo il secondo set invece che vi faccio vedere e questo set l'onay set bianco stupendo mi cambia tutta la luce del video però è veramente stupendo allora vedete che anche questo ha il simbolino di Oceans Apart appunto qui sul qui di lato e ha la scrittina qua sul retro sempre con la scritta Oceans Apart e l'etichettina ve la faccio meglio vedere è questa qua trasparente anche questo tutto in XS l'etichetta anche sono super belle super colorate carinissime vabbè e e sì insomma anche questo super super elasticizzato cioè guardate super traspirante si asciuga anche molto in fretta resistente e guardate che carini questi buchettini laterali per appunto far respirare meglio la pelle anche qua sotto sotto appunto le ascelle diciamo qua di lato e molto molto bello faccio anche questo benissimo ovviamente è un modello leggermente diverso però ho notato che la maglia maniche lunghe il top maniche lunghe veste praticamente uguale mentre per quanto riguarda il reggiseno e i leggins cambia leggermente infatti il top è fatto un po' diverso e vi giuro che è stupendo ha questi tutti questi incroci diciamo con la scrittina ocean support fatto così ovviamente quando lo indosserò capirete meglio hanno tutti e due i reggiseni le coppettine removibili quindi molto molto comodo e tra l'altro sono dello stesso colore da reggiseno cioè le coppie sono blu qua e qua sono bianche questa cosa mi piace tantissimo e tra l'altro è veramente bello come cos'è il fatto che la maglia sia leggermente trasparente così si vedono tutti quanti gli incroci e la schiena scoperta del top sotto anche se non togli la maglia quindi bellissimo anche perché io solitamente non la tolgo in palestra non rimango con reggiseno è leggis ma tengo sempre una maglietta e poi ci sono i leggins e questi qua come potete vedere sono leggermente diversi da questi perché hanno questo elastico che è molto molto più spesso e la scrittina ce l'hanno anche fatta così questi dietro hanno sempre ovviamente il logo e poi la particolarità di questi mantaloni è che hanno questa retina e è molto molto carino secondo me il motivo con questa retina anche perché li rendono un po' più leggeri perciò si possono magari usare anche d'estate così li trovo più estivi più carini per l'estate anche il colore bianco super super bello anche se in realtà devo dire che questo non tiene per nulla caldo ed è comodissimo non ho mai provato un completo così morbido diciamo per fare sport e questi sono i pantaloni un'altra particolarità è questa tassa sempre fatta con la retina che io vi giuro all'inizio non l'avevo visto e poi me ne sono accorta ed è una ficata assurda perché mi sono caduti perché in palestra per esempio puoi andarci a mettere il cellulare oppure le airpods chiavi dell'armagnetto non lo so qualsiasi cosa faccio ed è abbastanza comodo secondo me ecco i materiali visti un po' più da vicino un close up in modo da vedere meglio quanto sono fatti bene tra l'altro non hanno neanche troppe cuciture che danno fastidio sono super super comodi e morbidi questa qua è la retina e niente appunto ecco eccole qua questi sono i pantaloni super super morbidi pure questi super elasticizzati ovviamente li proverò anche in palestra e vi farò sapere cosa ne penserò in ogni caso è già tutto il pomeriggio che ho questo completo addosso e vi giuro te ne puoi dormire talmente comodo solitamente le giselle sportive e le giselle sportive facciano tanto però sono un po' più scomodi mentre questi qua c'è tipo pigiama veramente ve lo giuro e questo qua è il mio preferito però c'è questo qua il modellino un po' più particolare ma questo il colore mi fa impazzire mi piace tantissimo quindi questo bluet fatemi sapere tra l'altro nei commenti quale completo quale set preferite di più e ho una super notizia per voi perché Ocean's Apart mi ha dato un codice sconto che secondo me è un affare praticamente se avete un ordine con 79 euro nel carrello avrete un intero set in regalo e se ci pensate in realtà 79 euro ne ne è neanche tanto perché un set più o meno costa così e quindi al posto che uno ne avreste due ed è una cosa fantastica il codice sconto ve lo scrivo qua appunto ed è vale 22 quindi si insomma ovviamente se fate degli ordini scrivetemi su Instagram tenetemi aggiornati aggiornati fatemi sapere cosa ne pensate io ero troppo troppo curiosa di provare questo brand perché tutti ne parlavano benissimo sui social e devo dire che per ora anche io posso dire non ho nessuna critica da fare al brand magari i completini possono sembrare leggermente cari ma in realtà non lo sono perché valgono la qualità che hanno diciamo cioè la qualità ne vi paga e poi inoltre con questo codice sconto vale 22 stavo dicendo che quindi vi conviene veramente veramente tanto prima che mi si spegnesse la videocamera e nulla insomma spero che questo video vi sia piaciuto vi abbia tenuto compagnia aspettatevi sicuramente un altro video con Oceans Apart e scrivetemi nei commenti oltre al set preferito che cosa vorreste vedere sul mio canale vi voglio un sacco di bene e noi ci vediamo prestissimo con un prossimo video date un'occhiata mi raccomando al sito di Oceans Apart se vi va vi giuro che lo amo e niente vi lascio ciao ciao un bacione un bacione Grazie a tutti.